Un saluto cari amici di Xtreme Hardware con questo video lancio ufficialmente un nuovo contest da parte della redazione al contrario delle altre volte non sarà un video divertente dove faccio sketch altre cose perché la redazione e i miei colleghi mi hanno intimato di essere conciso e di essere molto chiaro questo perché secondo loro sono una persona che davanti alla telecamera piace parlare di qua di là e quindi mi dilungo ma io in realtà non sono molto d'accordo tutto praticamente è iniziato quando ero un bambino il nuovo contest riguarda un prodotto silverstone la redazione di Xtreme Hardware praticamente mette in palio insieme a silverstone un favoloso strider gold un alimentatore da 750 watt in in formato modulare quindi un alimentatore modulare 80 plus gold e come fare per vincere questo prodotto beh molto semplice dovete andare su facebook mettere un like alla pagina di Xtreme Hardware e un like alla pagina di silverstone dopo aver fatto questo lasciate un commento nel post relativo appunto a questo contest e il 6 maggio verrà estratto uno di voi ovvero appunto uno che ha lasciato un commento e uno che ha messo i due like e vincerà questo favoloso alimentatore vi ricordo ovviamente di andare sul nostro forum di iscrivervi al nostro forum Xtreme Hardware.com slash forum seguire il nostro magazine e magari iscrivervi anche al nostro canale di youtube se vi fa piacere lasciare qualche commento sotto questo video detto questo sulla pagina della appunto del nostro forum troverete nel dettaglio tutte le regole e il regolamento per partecipare a questo contest come avete visto questo video è stato molto veloce detto questo da Angelo dalla redazione di Xtreme Hardware è tutto un saluto ciao 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 ciao